Sono Claudio Gambarelli, responsabile della carrozzeria Scaglietti, nella storica sede dove Sergio Scaglietti realizzava le scocche per Enzo Ferrari. In questa sede sono state realizzate alcune delle più belle Ferrari di tutti i tempi. Oggi qui prepariamo tutti i nostri space frame in alluminio ed è sempre qui che lavorano i nostri progettisti che avvalendosi delle più prestigiose università del mondo disegnano, progettano e realizzano le Ferrari del presente e del futuro. Siamo riusciti a realizzare in Scaglietti quello che è il polo più avanzato per la ricerca dell'alluminio. Naturalmente anche lo space frame della 488 Spyder passa da qui. Progettato intorno al concept del tetto rigido ripiegabile è costituito da 11 leghe differenti di alluminio e diversi metalli nobili tra cui il magnesio. In questo modo abbiamo realizzato uno space frame leggero che garantisce valori di rigidità torsionale e pressionale simili a quelli del coupé, migliorando le prestazioni del modello precedente. Un risultato straordinario se consideriamo per uno Spyder la mancanza del tetto come elemento strutturale. La lavorazione dell'alluminio non è importante solo per elementi funzionali ma richiede anche per tradizione che ogni dettaglio sia trattato in modo scultoreo così da esprimere attraverso la sua bellezza l'eccellenza tecnica del progetto.